ciao ragazze nuovo video in questo nuovo video voglio realizzare con voi il mio modulino celtic che avete visto già su instagram e su facebook eccolo qua allora per la realizzazione noi in particolare realizzeremo questo qui in questa colorazione che non si vede benissimo io l'ho fatta in bianco bordeaux e ho usato questo color crema non si vede proprio bene 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 incastonatura innovativa perché a me piace fare sempre incastonature diverse se riesco e niente allora vi dico il materiale che serve per la realizzazione del nostro modulino celtic allora abbiamo bisogno di un rivoli da 14 mm io sto utilizzando quello di topstone rosso poi super duo io lo sto utilizzando in due colorazioni nib bit solo 4 per ogni orecchino due colorazioni di rocaille 11 0 e due colorazioni di cipollotti 3x4 naturalmente se volete potete utilizzare una sola colorazione per il modulino io ne ho utilizzati due per una questione estetica allora il primo passaggio da fare è quello di inserire sul nostro filo una rocaille 11 0 una super duo una rocaille 11 0 una nib bit e ripetete questa sequenza per altre quattro volte quindi ci ritroveremo con un totale di quattro nib bit 4 super duo e otto rocaille 11 0 se non avete la nib bit volete potete utilizzare le super duo vi dico io i cambiamenti da fare per quanto riguarda l'incastonatura allora una volta chiusa a cerchio e fatti i soliti nodini ci troviamo ad uscire dal foro alto di una nib bit inseriamo sul nostro filo 7 rocaille 11 0 io per facilitarmi il lavoro ne inserisco tre di una colorazione quella centrale di un'altra colorazione e altre tre della prima colorazione quindi in totale dobbiamo aggiungere 7 rocaille 11 0 ti a fuoco 7 rocaille 11 0 fuoriusciamo dal foro alto della nib bit e ci inseriamo nel foro alto della nib bit successiva nel caso in cui state utilizzando soltanto le super duo fuoriuscite dal foro alto di una super duo inserite 9 rocaille 11 0 ed entrate nel foro alto non della super duo successiva bensì della super duo ancora dopo quindi dovete saltare una super duo inserendo non 7 ma 9 rocaille 11 0 allora facciamo questo passaggio per altre tre volte quindi tra queste due nib bit queste due queste due allora ecco qua come ci ritroviamo adesso fuoriusciamo dalla rocaille centrale delle sette appena inserite inseriamo 4 rocaille 11 0 ed entriamo nella rocaille centrale del gruppetto da sette successivo inserite solo tre benissimo cominciamo proprio bene quindi abbiamo detto quattro rocaille 11 0 ci inseriamo nel rocaille centrale del gruppetto da sette successivo e tiriamo bene ecco qua come vedete il lavoro tende a chiudersi perché questa rappresenta la nostra incastonatura inseriamo quattro rocaille in ogni spazio dopodiché prendiamo il nostro rivoli lo mettiamo a testa in giù come sempre stringiamo bene ripassando all'interno delle perline più volte ecco qua che la nostra incastonatura è fatta fuoriusciamo dal foro alto di una nib bit nel caso in cui state utilizzando le super duo fuoriuscirete fuoriuscite dal foro alto della super duo che avete utilizzato per l'incastonatura non le altre perché queste qua devono rimanere libere per la decorazione finale allora fuoriusciamo dal foro alto inseriamo una 11 0 un cipollotto una 11 0 un cipollotto e una 11 0 questa è la sequenza ecco qua la sequenza fuoriuscite dal foro alto della nib bit e rientrate all'interno del foro alto della nib bit successiva ecco qui come andranno a sistemarsi fate questo passaggio altre tre volte ecco qui come ci ritroveremo ecco qui come ci ritroveremo si è formato questo piccolo modulino fuoriusciamo da un cipollotto in particolare questo che si trova in prossimità della nib bit in questo spazio qua aggiungiamo una locai io in particolare dovrò utilizzare questa color crema tre super duo io ne utilizzo una rossa una bianca e una rossa e un'altra 11 0 fuoriusciamo da questo cipollotto e ci inseriamo all'interno del del cipollotto subito successivo ecco qua non vi preoccupate se non si sistemano si sistemeranno nel passaggio successivo nello spazio tra i due cipollottini vicini quindi dove sotto abbiamo la 11 0 inseriamo tre rocai 11 0 1 1 2 e 3 e ci inseriamo nel cipollotto successivo ecco qua quindi tra un cipollotto e l'altro dove sotto c'è la nib bit inseriamo una 11 3 super duo e una 11 tra un cipollotto e l'altro dove abbiamo la 11 0 inseriamo 3 11 0 quindi facciamo questi due passaggi per tutto il giro ecco qui come ci ritroviamo adesso fuoriusciamo dalla rocai centrale delle 3 su delle 3 11 0 del picco che si trova tra i cipollotti allora fuoriuscendo da questa rocai 11 0 inseriamo un cipollotto dell'altra colorazione una 11 0 e un altro cipollotto e ci inseriamo nel foro alto della super duo che ci ritroviamo davanti quindi la prima delle tre si vede per niente bene tra una super duo e l'altra inseriamo una 11 0 quindi prendiamo una 11 e ci inseriamo nella super duo successiva in quella successiva un'altra 11 0 e ci inseriamo nella super duo successiva dopodiché inseriamo un cipollotto una rocai e un cipollotto e ci inseriamo nuovamente nel picco quindi nella rocai centrale del picco successivo dobbiamo fare questi quattro passaggi per tutto il giro quindi tra le super duo inserire una rocai 11 0 dal picco alla super duo inserire cipollotto rocai 11 0 cipollotto quindi lo facciamo per tutto il giro ecco qua il lavoro come si presenta è quasi finito leggermente squadrato già così sarebbe molto carino però se vi ricordate noi ancora non abbiamo utilizzato le super duo della base quindi prima di tutto facciamo dei picco sopra le super duo quindi prendiamo tre rocai 11 0 usciamo dalla rocai che si trova prima della super duo centrale e ci inseriamo nella rocai successiva questo questo passaggio dobbiamo farlo per quattro volte quindi qua 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 e qua nel nell'attraversare le perline dobbiamo fare una cosa importante per raddrizzare ulteriormente il lavoro anche se già abbastanza solido e dritto dovete praticamente unire queste due questi due cipollotti quindi non dovete passare all'interno della rocai sottostante ma passare dal cipollotto al cipollotto quindi una volta fatto il picco attraversate la super duo cipollotto rocai cipollotto qui come vedete e passate direttamente nel cipollotto successivo vedete passate direttamente nel cipollotto una volta passato tirate bene non tirate prima fate passare prima tutto il filo e poi tirate appena appena senza esagerare esagerare uscite nuovamente dalla rocai che si trova prima della super duo centrale e aggiungete altre 3 rocai 11 0 quindi fate questo passaggio per tutto il giro ecco qui allora adesso fuoriusciamo dalla rocai 11 0 centrale qui andremo a costituire il nostro cappietto io lo faccio con 4 rocai 11 0 quindi inserisco sul lago 4 rocai 11 0 fuoriesco dalla rocai centrale e rientro all'interno della stessa rocai ripasso due tre volte passiamo un'altra volta visto che ci ecco qua e quindi abbiamo fatto il cappietto ce lo siamo tolti davanti adesso fuoriusciamo dalla terza rocai della tripletta inseriamo sul nostro ago 7 rocai 11 0 1 2 3 4 5 6 e 7 ecco qui e ci inseriamo uscendo da questa rocai nella super duo che abbiamo sotto vedete che si inizia si fa si forma questa decorazione inseriamo al 3 7 rocai 11 0 3 4 5 6 7 e ci inseriamo nella tripletta che abbiamo qui 1 dobbiamo uscire sempre dalla terza quindi entrare nella prima puoi uscire dalla terza se la decorazione volete farla con la con le 15 0 potete farlo tranquillamente io in questa versione qui infatti ho utilizzato proprio delle 15 0 e ne ho messe 10 anche se secondo me anche 9 andavano benissimo fate una prova voi io ne ho messe 10 però secondo me 9 andava più che bene quindi adesso fuoriusciamo da questa terza rocai inserite altre 7 rocai 11 0 inserite in questa super duo 7 rocai e vi inserite nella tripletta che si trova qui altre 7 vi inserite nella super duo qua sotto quindi andiamo a costituire questa croce ecco qua che i nostri orecchini sono pronti modulo celtic questo l'ho fatto con il filo ho utilizzato come avete visto il filo miyuki perché voglio testare la resistenza di questo filo invece questo qui l'ho fatto con il filo di nylon monofilamento allora la lavorazione risulta la stessa solo che questo qui è realizzato col miyuki è un po più morbido come vedete mentre questo è molto più rigido molto più rigido come orecchino però non mi dispiace neanche questo mantiene di più la forma questo è sicuro perché comunque il filo miyuki è un filo che non ha memoria quindi resta sempre liscio a differenza del filo di nylon anche se questo che utilizzo io è a bassa memoria non si riccia così facilmente però comunque sempre un filo di nylon quindi è leggermente elastico il lavoro mi piace in tutti e due i modi certo questo è molto più rigido sinceramente io lo apprezzo di più anche qui poi si nota di meno il filo insomma comunque niente ragazze anche questo orecchino è stato fatto vi saluto un bacione grandissimo a tutte volevo ringraziare tutte le ragazze che si stanno iscrivendo che si sono iscritte che si sta e che stanno continuando ad iscriversi vedo che stanno aumentando sempre di più sono molto contenta di questo e niente ragazzi ci vediamo al prossimo video ciao ciao